ciao sono puntualissima sono le 17 in punto allora aspettiamo qualche minuto perché voglio vedere lo sapete prima di cominciare devo vedere qualche occhietto e sono talmente puntuale che ovviamente dovrò cercare di aspettare un po non posso neanche chiedervi come state di là c'è in corso una call e quindi se sentite qualche voce in sottofondo non è un personaggio del della fiaba ma d'altronde ci sta sappiamo che stiamo lavorando tutti da casa e quindi ognuno fa quello che può io sto a casa perché oggi c'è freddo e quindi avevo piacere di di stare a casa e poi oramai avendo letto ieri la favola qui con questo panorama mi sembrava carino continuare a fare così e leggere tutta la fiaba così aspettiamo ancora un momento vedo che mi salutano ciao benvenuta isabella sei la prima sei la prima quantomeno la prima che mi saluta io vedo tre occhietti aspettiamo ancora un minutino dai aspettiamo ancora un minutino vedo una fra poco ciao non posso neanche dire intanto raccontiamoci qualcosa perché il bello della diretta è questo che parlo solo io e quindi ho sempre ragione io ovviamente una se ne è già andata è tornata allora siamo a tre siamo a quattro siamo a ciao siamo a quando arriviamo a cinque partiamo perché è giusto che quelli che sono puntuali anche perché credetemi è veramente imbarazzante stare qui così aspettare allora parto subito dicendo una cosa importante giuro che oggi cercherò il più possibile di stare ferma perché a quanto pare ieri ho fatto venire il mal di mare a qualcuno con questi miei continui movimenti forse era l'agitazione probabilmente era l'agitazione cercherò di stare ferma oggi giugine come vedete è in tuta e allora ho voluto anche io essere in tuta e allora guardate come siamo simili io e il mio giugine ecco così sapete che siamo in pandan allora cominciamo vi voglio soltanto dire una cosa importante poi la dirò anche alla fine domani sarò in diretta sempre con voi per raccontarvi della talpatiglia alle 17 e 45 perché alle 16 sarò in diretta su instagram con mondadori imperia per l'esattezza con nadia schiavini che gentilmente mi ha invitato a raccontare una fiaba quindi se volete assolutamente sintonizzarvi alle 16 dovete andare su mondadori book store imperia e ci troverete lì a me e a nadia che è una donna meravigliosa una libraia di imperia che trova sempre il modo di intrattenere i suoi clienti i suoi amici quando si può vis a vis e altrimenti in questo modo meraviglioso che concedetemi mi sta mi sta mi sta piacendo ovviamente capite il senso di quello che sto dicendo quindi domani in diretta su facebook per tilia sarò alle 17 45 mentre alle 16 sarò su instagram mondadori book store imperia vi ho detto tutto possiamo cominciare a raccontare la favola allora perché ieri non ci fosse siamo arrivati a un punto in cui la nostra talpa tiglia che devo dire che è una talpa adorabile vero è bellissima si perde e incontra un cagnone che si chiama kurt e il dialogo è questo lei gli dice chi sei chiede timorosa sono kurt il cane da guardia il distributore di benzina qui accanto non mi vedi che vuol dire vedi risponde tilia che non ha capito niente non conosce le altre parole come cane guardia distributore benzina kurt capisce che tiglia non vede nulla vorrebbe aiutarla e comincia a pensare come fare nel frattempo le chiede chi sei da dove vieni come mai sei qui sono tiglia vengo dalla tana del popolo dell'erba profumata mi sono persa mi aiuti a tornare a casa ti aiuterei se sapessi dov'è come faccio a spiegarti piagnuco la tiglia sempre più triste su non disperare siamo in città che cosa dai dice kurt sali in groppa ti porto in un posto sicuro kurt si stende a terra accanto a tiglia che si arrampica su di lui e si aggrappa il suo pelo kurt si rialza e si dirige verso la cantina di una casa dove va ogni tanto a dormire quando il suo padrone lo lascia libero kurt la lascia sola e torna al distributore povera tiglia pensa nella città degli uomini bisogna vederci bene per evitare i pericoli altrimenti si rischia la vita guarda gli umani che passano molti hanno sul naso dei vetri tenuti insieme da plastica e metallo il suo padrone li chiama occhiali e spesso lo manda a prenderli prima di sedersi davanti a un grande foglio di carta il giornale forse con quelli tiglia potrebbe vedere qualcosa gli occhiali del padrone sono su un tavolino kurt li prende delicatamente tra i denti e torna da tiglia forza tiglia mettiti questi e dimmi se vedi qualcosa dice mettendoli davanti al muso della talpa va bene dice tiglia poco convinta tasta con il muso la superficie fredda degli occhiali sono grandi per lei si mette dietro di una lente ma non succede nulla ma tiglia per forza non vedi tieni gli occhi chiusi e sono coperti dal pelo aprili gli occhi ma che cosa sono come faccio ad aprirli il cane per tutta risposta le dà una leccata decisa sul muso e sposta indietro il pelo costringendola ad aprire le palpebre aiuto che cosa succede grida tiglia abbagliata dalla luce e si copre gli occhi con le zampe vedere mi fa male kurt le fa coraggio forza tiglia tra poco il dolore passerà e scoprirai tante cose belle kurt ha ragione tiglia vince la paura sposta le dita e lascia filtrare la luce vede un'ombra grande e grossa che si sposta sei tu kurt si avvicina gli occhiali posati sul pavimento lo guarda attraverso una lente e finalmente lo vede bene accipicchia kurt sei proprio grande il cane al naso lucente gli occhi scuri e il pelo corto e folto la guarda con un'espressione allegra kurt elenca tutto quello che hanno intorno tiglia impara subito i nomi delle cose e quelle dei colori che non aveva mai visto prima che meraviglia tutto le sembra bellissimo poi le viene voglia di andare fuori a scoprire il mondo però non può indossare gli occhiali sono troppo grandi e pesanti per lei kurt allora ha un'idea morde la montatura tutto intorno ad una lente tanto fa che la plastica si rompe e la lente si libera tiglia prende la lente con le zampe e l'appoggia sul muso in modo che stia davanti agli occhi ma appena fa un passo la lente scivola a terra bisogna trovare il modo per tenere la lente ferma sugli occhi dice kurt poi si allontana torna poco dopo con alcuni elastici tiglia mette un elastico sopra la lente in modo che la gomma premendo sulla testa tenga ferma la lente è buffa però è contenta kurt ride poi la invita a seguirlo verso un angolo della cantina dove si trova uno specchio guardati tiglia si osserva con curiosità guarda il musetto appuntito senza pelo dall'estremità rosa dove si trovano le narici vede finalmente i suoi occhi piccoli come fessure dietro la lente scopre di avere una pelliccia nera e lucente si muove davanti allo specchio osserva il corpo corto e tondo agita la coda piccolina è davvero soddisfatta come sono contenta di vedermi sono bella e anche tu sei bellissimo ma soprattutto sei gentile grazie ora è pronta per andare a scoprire il mondo kurt le promette di farle da guida e da guarda del corpo i due amici escono tiglia si muove lentamente guardandosi intorno con attenzione si aspetta di vedere tante cose meravigliose e invece si trova su un marciapiede grigio pieno di polvere e cartacce scopre che i rumori e la puzza che aveva sentito all'uscita della galleria sono prodotti da grosse scatole di metallo che si muovono veloci dentro alle scatole ci sono animali alti che sul marciapiede camminano con due zampe mentre nelle scatole stanno seduti kurt chiama automobili le scatole e umani gli animali tiglia è spaventata da quella confusione andiamo in un posto più tranquillo va bene ti porto ai giardini vicino al laghetto sali in groppo arrivati ai giardini si sente quasi a casa la terra è morbida e ha un profumo che ben conosce per la prima volta vede i fiori le api le formiche le farfalle gli alberi il sole il cielo nuovi pensieri le girano nella testolina come sono belli i colori dei fiori come sono buffe le api che meraviglia le farfalle vede il colore dell'erba e scopre che le grandi radici che ha incontrato tante volte sotto terra appartengono agli alberi sono tanto alti e le loro foglie si muovono al vento e scintillano quando un raggio di sole le tocca peccato che il mio coppio e il mio popolo non sia qui a scoprire queste belle cose il tuo popolo assomiglia certamente alle talpe che vivono in questo giardino dice kurt talpe? sì talpe ora ti porto a conoscerle tiglia segue kurt in una grande aiuola dove ci sono dei mucchietti di terra smossa il cane batte il terreno più volte con una zampa poco dopo dalla cima di un monticello di terriccio appare un musetto circondato di pelo nero con bellissimi riflessi blu ciao kurt dice la giovane talpa maschio ciao nerisio ti presento tiglia è appena arrivata in città ciao tiglia che cos'hai sul muso? chiede nerisio incuriosito dalla lente che tiglia porta sugli occhi sono i miei occhiali da talpa ma tu mi vedi senza occhiali? certo io ci vedo benissimo perché? è una storia lunga prima che kurt mi facesse aprire gli occhi non sapevo nemmeno di averli ora scopro quanto mi sono persa rimanendo sempre sotto terra non essere triste vieni a visitare la tana della mia gente il popolo della terra fiorita dice nerisio va bene vengo con te ciao kurt a più tardi dice tiglia mentre segue nerisio nella galleria dalla quale era spuntato bene siamo arrivati alla seconda puntata di tiglia ma state un attimo ancora lì perché ho una sorpresa per voi non siete curiosi di conoscere la talpa? perché io conosco la persona che l'ha disegnata ora ve la faccio vedere e poi voi mi scrivete se vi è piaciuta secondo me sì la prendo pronti? spero che la vediate bene allora adesso vi posso anche dire che l'illustratore è Carlo Lazzaretti e allora devo fare due volte i complimenti una volta all'autrice della fiaba che è la nostra Fiorenza Pistocchi che ormai noi conosciamo perché ve l'ho raccontata ieri e poi cercheremo di sapere di più di questo signore che si chiama appunto Carlo Lazzaretti e ha disegnato la meravigliosa tiglia allora bambini io vi do un abbraccio vi do un bacio a grandi e piccini e vi dico ricordatevi domani sempre qui ma cambia l'orario 17 e 45 se volete vedere e ascoltare soprattutto un'altra favola invece dovete andare su Instagram alle ore 16 perché sono in diretta alla Mondadori Bookstore di Imperia seguite Mondadori Imperia c'è una libraia meravigliosa che si chiama Nadia Schiavini che insieme a me leggerà una storia forse prima ne legge una lei e poi una io a domani ciao e grazie a tutti